Rai's Mercurio Io ci ho conosciuto io, prima andavo a cercare il papà di Raisa e Nantes, ma io l'ho conosciuto sì ma non ci sono arrivato, ero troppo ragazzo, non potevo lavorare. Quindi ho conosciuto Raisa e Mercurio, prima, dopo Raisa e Rallo e dopo Nantes, che ancora diciamo. E adesso ci sono io. Io vorrei chiedere quanti sono le barche quando riescono a fare la mattanza. Cioè il numero delle barche? Sì. E allora ci sono due fascelle grandi, diciamo, per formare il rettangolo. Cioè uno, quello di Levante, e quello di Ponente, diciamo, che forma il rettangolo. Non so se lei magari l'avrà visto qualche volta, per avere un'idea più o meno, se non sono chiaro e spiegato. Dopo ci sono ancora due più piccole, che sono i parascalmi, chiamati, no? Poi due remocci, che si mettono sempre uno da una parte sopra la venta e uno sotto la venta, e due per due per parte, diciamo, le bastate. Cioè una mociare su, una venturiera da una parte, un agguadratore, diciamo, e una mociare su e dall'altra parte, che formano il rettangolo. Quindi sono, ci sono altre barche ancora che lavorano, saranno due, quattro, e dieci, dodici barche. Poi c'è anche una piccola barchetta così, a parte quelle motorizzate, diciamo, che formano il rettangolo, nel rettangolo. E sono tutti qui dentro, non so se l'avete visto. E voi state su una, che è la più importante, dove vengono prese tutte le decisioni? Sì, esatto, la mociare dell'Aes, diciamo. E quanti uomini ci sono su ogni barca? Cioè dipende dalla barca, perché ci sono le barche, diciamo, i remocci, gli amati, no? Sono 14, 14 persone per barca, no? Che poi vengono lasciate quelle, le barche, una volta formate il rettangolo, se parliamo di mattanza, vengono lasciate sulle barche, cioè le barche rimangono là e vanno a salire sui vascelli, tutte vanno a fare le vascelli per fare la mattanza, diciamo, per salvare la lama della morte. Poi ci sono le barche, diciamo, le mociare di sole, che sono, diciamo, 8, cioè che si dividono in due barche, sono 4 più il capobarca, diciamo, 5, non per parte. Poi ci sono le venturiere, la famosa barca chiamata Venturiera, che sono 6 in tutto. Poi c'è la barchetta, la mociare del RISE, che giustamente sono sempre esempio, il RISE 7, queste sono le divisioni delle barche, a parte quelle motorizzate, ci sono due o tre persone, diciamo, formandese bocchiatole. Unde c'è la barche, che è la barche. Grazie. 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 E' un'altra cosa? E' un'altra cosa. Ma non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. Ma non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. Non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. Non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. Non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. Non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. Non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. Non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. Non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. bacione, non è che si ha fatto un bacione. Non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. bacione, non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. bacione, non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. bacione, non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. bacione, non è che si ha fatto un bacione, non è che si ha fatto un bacione. No, 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 no. Corrente, non è niente, non è niente, non è niente. Non è niente, non è niente, non è niente. Non è niente, non è niente, non è niente. Non è niente, non è niente, non è niente. Non è niente, non è niente, non è niente. Non è niente, non è niente. Non è niente, non è niente. 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 Non è niente, non è niente. Non è niente. Non è niente, non è niente. Non è niente. Non è niente, 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 non è niente. Non è niente. Non è niente. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.